Re! Buongiorno, bentrovati! L'ospite già sta parlando perché oggi abbiamo anche una persona che introdurrà la trasmissione, l'intervista di quest'oggi. Guardate chi c'è, il dottor Dario, buongiorno. Buongiorno. Come va? Va bene. Saluta i telespettatori che stanno guardando. Ciao! Senti, però dobbiamo lanciare l'intervista. Però adesso, prima di lanciare l'intervista, ci racconti che hai fatto in questi mesi in cui siamo stati parecchio a casa. Com'è stato per te non poter andare a vedere le partite? È Luga. Luga? Chi è Luga? Ti ha aiutato? No, è Lunga. Ah, è stata Lunga? Ti sei annoiato? No. Che hai fatto per cercare di passare il tempo? Ha fatto di nenni, ha cattato, ha giocato con papà. Chi è che sta riprendendo le immagini adesso? Papà Antonio. Eh, vedi, sempre in mezzo sta. Saluta a tutti. Ciao a papà Antonio. Facciamo partire l'intervista? Sì, sì. Come si fa a far partire l'intervista? 3, 2, 1, via! E eccoci, ben trovati a TRC Mattina Sport, nuovo appuntamento. Abbiamo parlato di diverse realtà nelle ultime settimane, ma una delle più importanti non l'avevamo ancora analizzata. Ha ripreso l'idea in mente, poi parliamo di pallavoto, parliamo di DNA all'SNC. Abbiamo un ospite gradito, se riesco a farlo entrare, eccolo qua. Sta arrivando Andrea Castello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, conosciamo Mancino, esterno testo dell'NSNC. Avete ripreso gli allenamenti alla piscina della Centuncelle. Come sta andando? Ormai è una settimana, forse anche due che avete ripreso, giusto? Sì, sì, è circa da martedì 16 che abbiamo ripreso. Martedì 16 e ci stiamo allenando su allo Sport Garden della piscina Centuncelle, all'aperto. E colgo anche l'occasione per ringraziare la società che ci ha ospitato. E ovviamente siamo ripartiti un po' con un piano di mantenimento per questa fase, nell'attesa di riprendere la stagione piena e nuova, perché è stato tutto congelato, ovviamente. E si ripartirà, credo, con la preparazione classica a settembre con un nuovo campionato. E per quanto riguarda la situazione degli allenamenti, ad oggi ci stiamo allenando martedì, mercoledì e giovedì, appunto nella piscina che vedete, dalle otto alle nove e mezza abbiamo lo spazio acqua. Si ringraziava anche l'SNC che ci ha fornito proprio le immagini di queste procedure degli allenamenti, tre volte a settimana, quindi mi dicevano ancora niente pallone. No, no, ancora niente pallone, solo la parte natatoria. Penso che sia di pari passo con le normative della situazione Covid, come negli altri sport, anche a livello amatoriale, che sia un semplice calcetto con gli amici. Credo si possano ritoccare i palloni, non so adesso se era dal 25 in giugno in poi, oppure è stato slittato di qualche giorno. Insomma, questo poi sicuramente lo sa bene la società e noi facciamo gli avveti, i giocatori. Certo, quanto prima disponibili i famosi palloni, siamo contenti. Però per adesso ci accontentiamo e va bene di avere preso intanto l'attività in vicina, che comunque era quella la parte fondamentale e mancante, perché comunque noi in quarantena ci siamo allenati, però a sé in casa o chi magari aveva la possibilità come me di avere addirittura un garage a disposizione. Io mi sono attrezzato e ecco, quindi quelle 3-4 volte a settimana riuscivo ad allenarmi in quarantena. Sì, sì, ho visto anche qualche immagine. Entravo di sguarnito, se no l'avrei messa adesso mentre stiamo facendo l'intervista. Le famose casse d'acqua abbiamo visto. Come ti muovono l'idea proprio di utilizzarle per fare questi allenamenti? Insomma, una specie di bastone con le scome e due casse d'acqua alle gambe. Sì, se vuoi ti racconto anche l'aneddoto del bastone. Praticamente quella è un'asta spezzata, rotta da windsurf in carbonio e me l'ha cortesemente regalata al mio vicino di casa, Daniele Benedetti. Abitiamo nello stesso polazzo, sicuramente lo conoscete a livello sportivo, a livello italiano e anche mondiale, è un campione della sua disciplina, del windsurf. E quindi niente, ci siamo trovati in quarantena anche a allenarci insieme e in garage abbiamo creato questo bilanciere. Io ho un po' di riserve d'acqua, di casse d'acqua in garage che porto al fresco e quindi niente, ho approfittato, ho lavorato un po' di fantasia e mi sono creato quindi questa attrezzatura, un po' col bilanciere, un po' comunque poi col corpo libero si possono fare tantissime cose. se uno vuole riesce a fare tutto, io la penso così. Ma sono allenamenti che poi ti sono serviti in questi giorni per riprendere con miglior forma proprio le sessioni con la SNC? Beh, sicuramente ne ho trovato giocamento perché comunque non partivo da zero, non partivo dalla completa inattività e come tu ben sai la pallonota è uno sport, tra virgolette, un po', come si può dire per non dire una parolaccia, un po' tra virgolette infame perché ti alleni tanto tutti i giorni, anche pesantemente, ma poi appena smetti praticamente devi ricominciare da capo, anche magari per una semplice febbre salta in una settimana non ti dico che devi ricominciare la preparazione, però sicuramente sei abbastanza debilitato e per rientrare in forma a pieno ritmo poi ovviamente è soggettivo, ci metti un pochino di tempo sicuramente almeno il doppio di quello che hai perso. Sì, ho visto qualche intervista agli attenti della nazionale che stanno facendo, come dire, il Settebello, anche a Caracqua del Lugo, il collegiale a Sinacusa lo parlando fino a fine luglio e parlando proprio di questa ripresa dell'allenamento hanno parlato dicendo che a voto, bene o male, ce la si fa, sono abituati, il corpo è anche abituato, invece stanno trattando difficoltà negli esercizi fisici di palleggio perché loro già hanno iniziato a palleggiare e anche con i palzi, con i salti. Avete fatto qualcosina, Vittor Pallogno ovviamente no, però qualche salto, qualche esercizio del genere, in pressione, in bicicletta, l'avete fatto difficoltà? Guarda, con Marco e Danilo ovviamente stiamo facendo un'oretta di nuoto, ovviamente abbiamo iniziato a inserire anche qualche gambata, salti ancora no, perché non vogliamo rischiare, ovviamente infortuni, soprattutto in un periodo in cui tanto il campionato è fermo. Però ecco, sicuramente man mano li inseriremo, però Giovanni ti dico che comunque tu sei un ex planutista, lo puoi capire perfettamente. Penso la cosa minore, diciamo il male minore che perdi a livello di allenamento è il nuoto, il nuoto comunque basta che riprendi un minimo di galleggiamento, un minimo di resistenza sulla bracciata, il nuoto aerobico lo riprendi fin da subito, il problema sono i cambi di velocità, gli scatti e tutto quello che c'è di esplosivo, quindi comprese le gambate, i salti, eccetera, eccetera. Quindi vedrai che piano piano, ecco, noi abbiamo iniziato a livello tecnico, chi mi può capire qualche progressione, ma degli scatti veri e propri ancora mi sembra un po' precoce. Quindi ecco, sicuramente andremo per gradi, proprio per evitare infortuni. Quindi allenamenti alla piscina della Cerconcella, quella da 33 metri, diciamo sì, è della stessa lunghezza della piscina aperta, di Lago Cali, che questi giorni è utilizzata soprattutto dalla cosera di Daniele Lisi. Però allenamenti sempre di mattina, anche ho visto, anche le 7-8 di mattina, quindi le buone abitudini di Marco Pagliarini non sono cambiate. No, diciamo che cortesemente la società Centuncelle ci ha messo a disposizione quell'orario, perché come tu sai, ma lo diciamo un po' rivolto a tutti, chi ci sta seguendo, quella è una piscina impostata come stabilimento, quindi ovviamente non possiamo, tra virgolette, dar fastidio a degli orari in cui magari la gente vuole venire a, tra virgolette, a mare, sfruttare la piscina come stabilimento e quindi ovviamente abbiamo questa disponibilità e noi non c'è problema, non ci adattiamo noi, perché penso che lo sport è anche questo, è anche sacrificio, e quindi poi a noi personalmente non ci pesa in particolar modo, perché tanto ci allenavamo comunque due volte a settimana alle 7 di mattina, quindi insomma allenarci alle 8, non è che ci cambia molto, poi per come la vedo io nel mio piccolo gli dico anche che ne trovo giù a momento, perché poi ho tutta la giornata libera. Eh sì, adesso questa è la situazione, in attesa di vedere quando riprendere il campionato, si parla di ottobre per la 1 e per la 2 ovviamente ancora non si sa bene, anche perché non si conoscono nemmeno le squadre, in questi giorni si sta fallando molto. Rifacendo un passo indietro riguardo al campionato che c'è stato, poi solamente 10 giornate delle 22 che erano in previsione, si è interrotti a una giornata dalla fine dell'andata, doveva giocare col Bisnova, poi è stata rinviata e finita annulata la partita. Un pensiero su questo campionato, come è stato secondo te, non eravate nelle zone alte, però così a debita distanza dalla zona play-out. Sì, è una panoramica generale, veloce sul campionato disputato, o meglio, sulla parte del campionato disputata. Sicuramente a livello nostro di club, quindi SNC Cirecchia, penso che il bilancio tutto sommato sia positivo. Certo, abbiamo avuto forse un paio di passi falsi brutti, però sicuramente abbiamo poi sfoderato delle prestazioni importanti anche con società abbastanza blasonane che puntavano ovviamente alla promozione, quindi ai play-off di promozione. Ci mancava metà campionato, praticamente ci siamo fermati una giornata prima della fine del girone di andata, e quindi è un po' restrittivo, un po' limitativo il discorso di una ponderazione di questo bilancio del campionato. Però ecco, quello che abbiamo fatto sicuramente non ci siamo comportati assolutamente male, il nostro obiettivo, ripeto, era la salvezza e navigavamo comunque intorno alla metà classifica. Quindi, se manteniamo il trend, sicuramente potremmo ambire a qualcosina di più, ma solo per soddisfazione personale o di non giocatori e basta, perché nessuno ci ha mai detto di puntare in alto o diversi obiettivi dalla salvezza. Primo obiettivo, salvezza, poi quello che viene in più, quindi soprattutto mi riferisco poi alla crescita dei giovani, perché è importante che i giovani disputino queste partite un po' più importanti, magari partite un po' più di vertice, se navigi in acque più alte, non solo il compitino della metà classifica. Riguardo al campionato che c'è stata, una domanda che sto facendo spesso ai vari esponenti delle società, partita più bella, partita più brutta della stagione incompiuta per Andrea Castello? Quella più brutta che 12 anni ha giunti? Ma a livello personale, come mia prestazione come singolo, oppure di squadra? Ok, di squadra, vabbè, a livello negativo è sicuramente quella di Pescara, in casa col Pescara, perché sia come approccio, sia come l'abbiamo giocata, non c'eravamo proprio già dall'intera settimana, perché io lo dico sempre e lo ribadisco anche qua, la partita si prepara in settimana, non si prepara solo il venerdì, non si prepara o ancora peggio, solamente magari nel riscaldamento del sabato, quindi ti dico, per come abbiamo approcciato noi giocatori, non voglio dare colpe a nessuno, mi ci metto io in primis, ci metto la faccia, perché lo sto dicendo qua, siamo stati sicuramente poco concentrati nella preparazione della settimana e poi di conseguenza non improvvisi niente il sabato, poi rispecchi un po' il trend di allenamento e di determinazione e concentrazione che ritrovi in settimana. Per quanto riguarda la migliore, che dire, la migliore, vittorio e schiaccianti, comunque non ne ricordo, eccetto forse l'ultima col Messina in casa, perché poi comunque il campionato... Stava sconfitta, stava sconfitta con l'Azio, come prestazione... Sicuramente a livello, se non guardiamo i punti guadagnati e guardiamo solo il bicchiere mezzo pieno dal punto di vista della prestazione, sicuramente quella in casa con l'Azio Latina, però ahimè è l'unica partita che ho saltato, quindi non sono riuscito proprio a dirti la mia perché sono sentita per radio, ecco, io ero febbricitante, avevo quasi 40 febbre, 39 febbre, se no sarei sceso tranquillamente con la febbre in acqua, ma ero proprio... Tu hai sconfitta in squadra. Non riuscivo neanche a alzarmi dal letto, quindi poi io sono proprio un tipo che l'ultima spiaggia è proprio saltare una partita, giocherei anche senza un braccio o senza una gamba, però ahimè anche con Marco, abbiamo Marco Pagliarini, insomma il mio mister, abbiamo sicuramente optato per questa scelta perché dopo Anziolatina avevamo delle partite un po' più delicate e quindi ha preferito diciamo preservarmi per le altre partite successive che era importante fare punti, noi già sapevamo che magari potremmo perdere punti contro sulla carta, è stata la prima della classe e poi comunque l'ha dimostrato anche contro la mia ex squadra, però ecco abbiamo preferito così anche se magari come si dice il pallone è rotondo e l'abbiamo dimostrato perché abbiamo messo in difficoltà, anzi stavamo pari credo fino a un minuto e mezzo dalla fine e abbiamo sbagliato per il pari quindi voglio dire poi un gollo sotto pari, un gollo sopra è veramente minima la differenza, il gap. Come ripeto è una domanda più generica riguardo al modo della pallanuoto, come sarà la pallanuoto post-Covid? Stiamo vedendo tante società che stanno avendo difficoltà, posso anche fare un intervistare Damiano Camonero, evento uno sport manager, stavano difficoltà a farla 1, però una squadra riveduta rispetto agli anni scorsi, che Antonio Napoli è rinunciata alla 1, Florenzia che al momento forse sì, forse no, anche Cia che sta avendo difficoltà per quanto riguarda il caso del Panagalli, tu non la vedi, visto che hai giocato anche a Parigi, che quindi hai più un tasto importante su quella che è in realtà nazionale. Ok, ti esprimo un mio parere, però come ben sai ovviamente io rimango un giocatore professionista e quindi è un po' solo dal mio punto di vista questo ti rispondo a questa domanda. Comunque parto da un paragone calcistico che è quello dello Standard Liege, una società di serie A belga, e ti dico che il calciatore del Dortmund, del Borussia Dortmund, Witzel, centrocampista, quello capellone, è intervenuto come come socio di questo club, presumo perché si è cresciuto calcisticamente, essendo belga, è intervenuto con un milione di euro per mettere in mano una situazione molto delicata per non far fallire il club, quindi se hanno difficoltà, società così storiche nel mondo del calcio e di un certo livello, insomma di serie A, figuriamoci uno sport magari minore come la palla a nuoto, quindi ti rispondo dicendoti che comunque sicuramente le società hanno risentito come tutte le attività poi, post-covid, ne risentono tutti di questa pandemia, poi c'è chi più chi meno ovviamente, però credo che rispecchi un po' l'andamento di qualsiasi attività che sia sportiva o commerciale e quindi ecco, speriamo che sicuramente è il mio avviso, che si risollevi al più presto il movimento e soprattutto dal punto di vista economico perché parecchi, e qui mi riferisco magari più alla 1 che alla 2, lo fanno per professionismo allo stato puro, quindi è un vero e proprio lavoro per tanti di noi, quindi se ti posso dire nel mio piccolo, per ora anche per me è la fonte primaria di reddito e quindi anche se con la quarantena ho approfittato e ho finito gli esami e mi laureo a un breve che a luglio non c'era posto, quindi se volete vi do anche questa notizia in diretta. Economia e commercio, giusto? Mi ricordo male? Come? Economia e commercio, giusto? Sì, 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 economia aziendale, grazie. Ok, ok, ovviamente abbiamo terminato. Una cosa che volevo aggiungere, professionista, per quanto riguarda l'impegno che viene dato, però purtroppo dilettante, viene considerato come tecnologia di contratti, come cose del genere, quindi... Sì. Sì, come impegno mi eri avuto un professionista, perché comunque mi dedico come se fosse un lavoro, però purtroppo diciamo che compresa la la Serie A1 abbiamo un contratto di tipo dilettantistico, ecco, quello sì. Ok, Andrea, siamo giunti a termine di questa chiacchierata, abbiamo toccato il quarto d'ora consueto, anzi abbiamo anche superato, e siamo contenti di poter allungare, a volte poter disquisire al meglio di quelle che sono le situazioni dei vari sport. Ti ringrazio, quindi buoni allenamenti, speranza di spostare a tornare a presto. Grazie, grazie a voi e buona esattiva oltre a buon lavoro, perché sicuramente è giusto anche lavorare, soprattutto post pandemia, ecco. Ok, ok, speriamo che possa esserci la situazione migliore già in queste settimane, grazie ancora Andrea, un saluto ai telespettatori di DRC, adesso il via con le trasmissioni, ci vediamo alla prossima.